Iride Fontana, Spagna, sei stata scelta? Sì, la numero 11 dalla Spagna, Iride, 22 anni, papà spagnolo e mamma veneta, parla molte lingue, l'italiano, lo spagnolo, il mantovano, il napoletano e il calavrese, e che più ne ha più ne metti. Iride Fontana, Spagna, sei stata scelta? No, si raddoppia l'emozione per voi, adesso è la giuria che ha questa responsabilità, deve scegliere tra queste due ragazze, Daniele, chi vuoi riammettere alla gara? Non è facile, questa volta non è facile. Numero 11, Spagna. Spagna, numero 11, Daniele Liotti, da un voto alla Spagna. Hai detto Spagna, due punti per la Spagna. Anche Andrew è indeciso. 14. Svizzera, la numero 14 Andrew. Numero 11, Spagna. La Spagna! Anche Carlo, quindi, evitiamo a Gerard, e quindi la Spagna, Iride, rientra in gara. Prego. Ancora in gara, quindi voi continuate a televotare. Televotatele anche attraverso, appunto, la simpatia che vi suscitano, ma soprattutto attraverso la loro bellezza, il loro fascino. Allora, due foto anche per voi. Due foto anche, scusate se faccio uno spelling visivo anche per voi. Dovete correre e andare a vedere e a toccare il personaggio giusto. Hanno capito? Benissimo. Allora, guardateli, eccoli là. A e B. Quale dei due è il presidente di una grande squadra di calcio del Nord? Via! Hanno indovinato tutte e due, brave, davvero, il presidente Moratti. Alla domanda, se tu sei stata scelta, la risposta ti arriva adesso, guarda, nel monitor. Sei stata scelta? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Iride, quindi tu vieni da vicino, tu parli bene italiano, sì? Sì, parlo bene italiano, sì. Bene, bene, allora andiamo proprio bene. Allora, senti, la tua mamma, so che c'è una storia legata al tuo nome Iride, raccontacela. Mia mamma quando aveva 15 anni studiava in un libro di Dante Alighieri, ha trovato il nome di Iride e allora lo scrisse dietro al libro, mia figlia si chiamerà Iride. E così grazie a Dante Alighieri tu hai preso, sai il significato di questo nome, è bello, l'iride è? E anche l'iride è l'occhio, il colori. L'arcobaleno, certo, pieno di colori. Senti, tu hai scelto una foto che vediamo proprio con la tua mamma, raccontaci il legame con la tua mamma. E' qua la tua mamma stasera? E' qui? Sì. Eh sì, ecco, perché la tua mamma, la tua mamma chissà quanto è contenta che tu sei arrivata fino a questo punto, eh? Molto. Ma mandale un saluto, salutala. Attraverso la televisione, eccola la, vedi, la vedi, è lì, guarda. Grazie di tutto mamma, per credere in me, ti molto sento bene. Iride, con il numero 11, dalla Spagna, stiamo vedendo, ecco, il numero 11, Iride, Spagna, vediamo anche Valentina, il numero 5, va. In finale, la numero 5, Valentina, Argentina. E salutiamo con un grande applauso Iride Fontana, dalla Spagna. Grazie a tutti.